Che cosa accadeva proprio il 8 aprile, giorno 8 aprile 1994? Lo scopriamo con Laura Gialli e poi ne parliamo con un ospite. Vediamo insieme. E' l'8 aprile 1994 quando il giudizio universale dopo secoli riappare come lo aveva dipinto Michelangelo, suscitando stupore e meraviglia, come era già accaduto per la volta. 14 anni sono durati i restauri per ripulire le opere Michelangelesche, a guidarli Gianluigi Colalucci. La sorpresa più grande è stata la scoperta dell'esistenza di questo colore sotto uno strato pesantissimo di sostanze strane. Tutto questo aveva costruito una pellicola sopra il colore di Michelangelo per cui tutti lo conoscevano come un non colorista. E allora la scoperta di pochi centimetri di un colore imprevedibile, beh questo è stato un momento impressionante. Un'impresa culturale all'insegna della manualità, fatta con elementi semplici, una soluzione, cotone, spugna, pennelli e tanta cura. Attenzione! Per un capolavoro assoluto. Fu grazie all'assistina che per tutti Michelangelo diventò il divino. Un mito alimentato dallo stesso artista che ci teneva ad essere riconosciuto come l'uomo eccezionale che era. Che meraviglia! Questa è veramente la meraviglia nel mondo. Quindi lo avete sentito da Laura Gialli l'8 aprile 1994, apre giudizio universale della Cappella Sistina. Io do il benvenuto ad Antonietta Bandelloni, artblogger, scrittrice. Buongiorno! L'importanza del restauro della Cappella Sistina fondamentale ed emozionante. Allora parlare dopo San Luisi con la luce è sempre... Non sentiamo! Non sentiamo! Come mai? Perché non possiamo sentire la nostra Antonietta Bandelloni? Allora intanto dicevamo l'emozione, no? Perché quando appunto apre il giudizio universale che poi adesso è meta, meta, importante, che arrivano da tutto il mondo, da tutto il mondo. E effettivamente io ci sono andata qualche mese fa e ho scoperto che hanno tirato fuori questi colori meravigliosi che prima erano un pochino più soffusi. Quindi questo azzurro stupendo, questo rosso purpureo, meraviglioso. Torniamo dalla nostra Antonietta Bandelloni. Antonietta, stavamo dicendo... Allora, ebbe una valenza fondamentale per tanti aspetti. Per prima cosa si riscoprirono questi colori brillanti, quasi somiglianti al tondo doni degli uffizi, al di sotto di questa patina causata dal nero fumo dei bracieli, dalle candele, ma anche dalle colle animali stese durante i precedenti restauri. E queste colle stavano provocando dei continui microstrappi del colore, creando un terreno di cultura ideale per la microfluora fungina. E poi fu il primo restauro mediatico, continuamente ripreso dalla Nippon Television che pagò il restauro. Pensate che girarono 7 mila metri di pellicola, tutt'oggi custoditi nei musei vaticani. Senta, Antonietta Bandelloni, abbiamo detto art blogger, scrittrice, ma anche National Geographic le ha chiesto un articolo proprio per quanto riguarda Michelangelo. Perché è un personaggio sempre sotto lo studio e la lente d'ingrandimento di tutti, un grande personaggio? Eh sì, non è mai saputo in pratica l'interesse che suscita questo genio dell'arte, un po' per il fascino della sua personalità, ovviamente per le sue grandi opere, ma anche perché è molto moderna, non passerà mai di moda. Ha fatto delle cose grandiose e continuano ad essere molto molto attuali. Il genio di Michelangelo stavamo dicendo, Bandelloni ha cercato, celebrato, diciamo anche nei suoi luoghi, no? Quindi comunque è un po' ovunque. Esattamente, perché viene cercato non solo nelle grandi cattedrali, pensiamo a San Pietro o in altri posti dove sono le sue opere, ma anche laddove ha cercato i marmi per realizzare le sue sculture. Soprattutto nella zona di Carrara si è attivato un turismo in tal senso, portando le persone alla scoperta dei luoghi dove Michelangelo ha estratto i marmi, ha le gambe del Polvaccio, piuttosto che ha fantiscritte. Oppure nella zona di Seravezza dove ha un mandato da Papa Leone X per cercare i marmi, una vicenda molto complessa, ma anche lì si sta sviluppando un po' il turismo alla ricerca dei luoghi estrattivi di Michelangelo. Hai capito. Allora, volevo andare, prima di salutarla ovviamente, con Antonietta Bandelloni, volevo ricordare anche la mostra al British, quindi ci sarà una importante mostra. Una mostra incentrata sugli ultimi 30 anni di vita di Michelangelo, dove verranno esposti soprattutto i disegni delle ultime crocifissioni, ce ne sono diversi. Verrà fatta in concomitanza dei 460 anni della morte di Michelangelo, che ricorrono quest'anno, a parte del 1574, mentre il prossimo anno saranno i 550 anni dalla nascita di Michelangelo. Mi permetto di dire... Certo, prego, prego. Quest'anno sono dieci anni della mia pagina, quindi è un anniversario anche per me importante. Allora, diciamo intanto augurissime e congratulazioni perché ha scelto un personaggio famoso, l'abbiamo detto, nel mondo. E rivedere queste immagini, Antonietta sarà d'accordissimo con me, e della Cappella Sissina del Giudizio Universale, è sempre una grande, grandissima emozione. È giusto? Immagino per lei lo sia. Certo, e poi vederlo, il restauro di Colalucce, è sempre qualcosa di emozionante, soprattutto per me che Colalucce è stato un mito. Anzi, è stato da poco l'anniversario della morte. È vero, quindi lo ricordiamo davvero con grande, grandissimo affetto. Grazie ad Antonietta Bandelloni, artblogger, scrittrice. Complimenti per i suoi dieci anni dedicati a un grandissimo come Michelangelo. E adesso è lunedì e quindi noi iniziamo... Allora